Ciao stiamo facendo la prova, quella di prima, la seconda prova, la ricaduta, quella di prima. E' arrivato il messaggio, è arrivato, però non ti ho bloccato, ecco, vieni, 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 ciao, ti sospiro, oi, ecco qua, è arrivato il video, però continua, la registrazione, ecco, stavamo facendo la prova, che toro che so, che toro, torompiedi, torompiedi, salutiamo tutti quasi, i fantastici quattro, cinema, non si vede, ecco, saluta pure tu, saluta, ecco, saluta pure tu, saluta, 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 Ciao, 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 ciao